Le due di notte, le due e zero quattro, io stavo dormendo, per questo sussurro, perché convivo e non vorrei essere sbattuto fuori di casa nel cuore della notte. Però sono le due e zero quattro e se non lasciate un like a questo video creato di notte, orate che faccio, io potrei non rispondere delle mie azioni. Cristiano Giuntoli, che cosa diavolo ti è saltato in mente? Cristiano Giuntoli, è settimane, mesi, giorni, ore, che parliamo di te un commeners alla Juventus. Perché alle due di notte dell'otto agosto? Ce n'era del tempo, invece tu alle due di notte dell'otto agosto mi devi buttare giù dal letto. Io sono stato svegliato dalle notifiche del mio cellulare, che vibrava, vibrava, vibrava sul comodino. E meno male, a qualcuno è andato peggio. Alle due di notte era stato svegliato perché pensavano fosse l'attentatore di Trump. Almeno io, da questo punto di vista, sono innocente. Però la storia parte da qui, da una persona che si sveglia nel cuore della notte. E allora, ciao a chi lo sta vedendo di notte e buongiorno a quelli che invece lo stanno vedendo di mattina. Perché sì, io sono passo e caricherò questo video alle due di notte. Perché ero iniziata a circolare una voce piccolina mentre mi stavo addormentando intorno alle undici rotte, forse verso mezzanotte. Con Meners non si è allenato nella giornata di ieri, non quella di oggi, quindi nella giornata del 6 di agosto. Non si è allenato il 6 d'agosto con l'Atalanta e Gasperini sarebbe arrabbiato con lui. E io dicevo, ma scusami, ma perdonami, non si è allenato il 6 d'agosto, gli ha spennato il arrabbiato e viene fuori praticamente l'otto. C'è qualcosa che non sta tornando proprio a livello logico. Perché è venuto fuori solo successivamente? E il 7 si è allenato oppure no? Attenzione perché nella giornata di ieri erano accadute due cose. Si era parlato della gentrico Meners presente a Bergamo perché, boh, ci si chiedeva. Vediamo, magari ha portato un'offerta. E di Cristiano Giuntoli assenta la presentazione di Douglas Lewis. E questo l'abbiamo detto in live dove abbiamo ascoltato insieme la conversazione e tutta la presentazione e anzi vi ringrazio perché quella live è andata molto, molto bene. Gentilissimi, come al solito. Obbligato per dirlo alla brasiliana, al Douglas Lewis. E quindi queste due cose facevano un po' pensare che potesse sbloccarsi qualcosa all'interno della trattativa. E invece quelle voci intorno a mezzanotte di Gasperini arrabbiato con con Meners erano per un motivo. Perché l'Eco di Bergamo, non il giornaletto della piazza del vostro paese, ma l'Eco di Bergamo, uno dei giornali di riferimento più informati sull'Atalanta, questa mattina, questa notte, ha fatto uscire l'anteprima dell'articolo della prima pagina di domani con Gasperini, non Pinco Pallino, non Topolino Gasperini, allenatore dell'Atalanta, allenatore di Cobb Meners, che conferma che Cobb Meners vuole la Juventus. Che questa situazione è una situazione di forte stress per il ragazzo, che ha un accordo con il club, cioè la Juventus, che vorrebbe andare la Juve e che in questo momento sta forzando la mano. E che per questo motivo, in questo momento, il giocatore non è completamente concentrato sull'Atalanta ed è costretto a rimanere fuori dai carichi di lavoro. L'Atalanta, fra sei giorni, gioca alla Super Cup europea contro il Real Madrid. Allora, ditemi voi se il comportamento, l'atteggiamento, questo cambio inaspettato di rotta da parte dei Cobb Meners non è uno dei più grandi, veramente, delle gesti, delle più grandi azioni che un calciatore abbia mai fatto per vestire la maglia della Juventus. Io lo so che ora tanti tifosi delle altre squadre all'interno direi, ma non ci si comporta così, stanno rovinando l'Atalanta, stanno rovinando Cobb Meners. Noi veniamo da una telenovela conclusa proprio di recente, lato Juve, dove la Juventus aveva in testa una cifra, dove dall'estero sembrava anche arrivare una cifra più alta rispetto a quella che poi è stata ufficializzata per l'accessione, ma Mattia Sassoulet voleva solo la Roma, aveva in testa soltanto la Roma e a tutti i costi lui voleva andare alla Roma. A tal punto che il Juventus si è ritrovato ad accettare un'offerta anche più bassa rispetto a quella che era preventivata e quella che arrivava dall'estero, perché il calciatore aveva preferenza di restare in Italia, andare alla Roma a giocarsi le sue carte alla Roma. Questa è la base del calciomercato ragazzi, ci sono i calciatori che oggi hanno potere e anche tanto potere, che forzano la mano, se hanno degli agenti importanti. Qualche settimana, anzi qualche giorno fa in realtà, qui sul canale vi avevo portato un video in cui vi parlavo dell'agente di Cobb Meners e comunque di tutte le persone che gestiscono Cobb Meners, che si stavano comportando molto bene con la Juventus, perché effettivamente la Juventus e Cobb Meners avevano questo accordo di massima ormai da tantissimo tempo e Cobb Meners è veramente l'obiettivo numero zero, A++ come valutazione, tier S massimo nel mercato della Juventus. Il primo nome che Giuntoli ha messo nella lista, il primo nome che ha Tiago Motta in testa. Ne ho parlato anche nella lettura tattica del 2-7-2 di Tiago Motta. Cobb Meners è una pedina fondamentale. Andatevela a rivedere perché quello è un discorso molto interessante, anche quello è un video che è andato molto bene, quindi ringrazio quelli che l'hanno già visto. Quindi non mi stupisce questa cosa, però vi dicevo, ma fino a quanto ci aspetteranno? Perché Cobb Meners è un giocatore che aveva annunciato pubblicamente di andarsene. Ecco ora si è giunto un pezzo. Gasperini ha detto che vuole andarsene, vuole andare alla Juve che c'è già un accordo e ora serve solo trovare un accordo con le due dirigenze, con le due società. Però posso dirvi che questo da un certo punto di vista è logico perché l'Atalanta così si mette in una posizione di favore verso i suoi tifosi, perché ovviamente l'opinione pubblica è molto importante, impattante e quindi semplicemente il tifoso dell'Atalanta oggi è anche giustamente perché quando succede nella tua squadra il tifoso lo pensa questo e dice che stronzo Cobb Meners. Cioè non mi è venuto un altro modo per dirlo in maniera un po' più elegante, però penserà che stronzo Cobb Meners. Ci sta mettendo i bastoni tra le ruote, ci sta complicando il mercato. Ripeto, a noi è successa la stessa cosa con Sule poche settimane fa, il gioco delle partide, è giusto che il tifoso se la prenda col giocatore che va comunque a creare un danno economico alla società. Quindi l'Atalanta da questo punto di vista dice ragazzi noi lo volevamo tenere, lui ha fatto il diavolo a quattro per andare a Juventus, non siamo stati in grado, anzi siamo costretti, guardate a metterlo addirittura fuori dagli allenamenti perché questo nemmeno si vuole più allenare con noi, dal gran che vuole la Juventus. Ripeto, tra sei giorni la Supercoppa Europea contro il Real Madrid. Una roba del genere, quindi veramente Cobb Meners qui ha forzato la mano in una maniera folle. Però dall'altra parte l'Atalanta secondo me si mette in una posizione di sfavore nella trattativa, perché oggi Giunturi può contare sul fatto che pubblicamente l'Atalanta sta scaricando Cobb Meners, come pubblicamente la Juventus ha scaricato chiesa. E quando fai queste azioni che sono coraggiose, sì però sono anche dei veri e proprio lean, significa giocare a carte scoperte. Il tuo avversario sa che cosa ha in mano, sa qual è il banco, sa che carte hai tu, sa che carte ha lui, quindi è difficile poi arrivare da questo punto di vista a raccogliere davvero la valutazione che avevano in testa. Quindi non lo so se poi la valutazione sarà davvero di 60 milioni come l'Atalanta sta richiedendo da settimane se non un mese. Perché questo complica in un po' con la situazione. Perché oggi la Juve potrebbe dirti, senti, accetti i 45 milioni? No? Va bene, allora ti entro. Tanto tu hai già detto che è fuori rosa, che vuole la Juve, che è stressato, che non è concentrato. Se non accetti i 45 milioni io non aumento l'offerta. Questa è prenderlo o lasciare. Quindi o l'Atalanta è già pervenuto a un'offerta interessante, che considero interessante per Cobb Mainers. È dato che in questo momento il giocatore sta dimostrando così, ha detto, senti, io intanto mi metto la coscienza a posto con i tifosi e quindi faccio uscire questa voce sull'eco di Bergamo, che mi fa da, come posso dire, da portavoce, da, non mi viene in mente, da megafono, ecco, scusate, sono le due di notte, mi fa da megafono e va a diffondere la mia voce per tutto Bergamo e per tutta l'Italia e faccio in modo di far sapere a tutti che Cobb Mainers si è messo di traverso e vuole la Juve e quindi poi accetto quest'offerta, perché se no non mi torna. Devo dirvi la verità, non mi torna se no questa cosa. Ma aggiunto lì oggi non siamo in camosso solo per Cobb Mainers, pur andato a trattare per Todiboh, è aumentato l'offerta per Todiboh e oggi l'inizio è più disposto ad accettarla, quell'offerta. Quindi Todiboh e Cobb Mainers diventano due giocatori che, davvero ormai da settimane, perché eravamo forse prima di metà luglio, anzi forse quasi un mese, quasi un mese, che dico che sono i due giocatori prioritari. Ecco ora quelle priorità stanno diventando realtà. Giuntoli si sta muovendo, Giuntoli sta utilizzando l'armeria pesante, sta cercando di far sbloccare determinate trattative che sembravano morte. Io oggi nella live al termine e poi anche su un video breve vi ho postato e vi ho detto che per me, Cobb Mainers, Todiboh, sarebbero arrivate le Juventus e che Chiesa non avrebbe rinnovato. A poche ore di distanza, nel cuore della notte, posso dirvi che due su tre sembrano andare nella direzione giusta. Poi vedremo su Federico Chiesa. C'è un'intera live dove abbiamo parlato di questo argomento per circa tre quarti d'ora, quindi se siete interessati a quello vi rimando al video precedente. Però ragazzi se sta muovendo qualcosa e se anche il cuore della notte, a quanto pare, Cristiano Giuntoli non dorme mai. Buonanotte o buongiorno. Vedete voi.